Ebbene ragazzi bentornati in quest'altro nuovissimo vlog di oggi raga Mi raccomando prima di cominciare con il vlog vi voglio lasciare un like, un commento, di iscrivervi al mio canale youtube se ancora non l'avete fatto Commentare, attivare la camera per non perdere i prossimi contenuti Raga volevo dirvi che quest'oggi andremo a Carroforte quindi raga organizzerò un viaggio durante questo vlog Mi raccomando raga per questo vlog vi voglio almeno 100 like Commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo dopo Raga ci siamo appena imbarcati abbiamo appena caricato i bagagli Adesso ci troviamo qui in traghetto raga come potete ben vedere siamo sopra ancora nel punto più alto del traghetto Siamo appena partiti raga come potete ben vedere Credo che il viaggio raga durerà circa una mezz'oretta Dopodiché raga ci troviamo direttamente a Carroforte Raga come potete ben vedere questo è il posto Raga sono le 3.40 e sto registrando in questo preciso momento Non so se alcuni di voi conoscono Carroforte ma per il momento io sono in questa diciamo in questa isola Beh ragazzi volevo dirvi che è matino ci siamo appena alzati e sono le 9 del matino Raga qui il tempo è bellissimo volevo dirvi che stasera andrò al mare quindi inizio a vloggare anche al mare Sono qui nel porto dove ci sono tutti i traghetti e niente raga sto prendendo un po' di fresco perché qua fa davvero caldo E niente raga presto andrò al mare e inizio a vloggare anche lì Finalmente nuovamente il mare Raga finiamoci il nostro gelato in tranquillità Raga credo proprio che non ce la faccio perché c'è l'acqua è troppo fredda raga Raga giuro che non ce la faccio è troppo fredda Raga abbiamo pure la pizza Buongiorno ragazzi è mattino sono le 9 e mezza del mattino Volevo dirvi che questo è l'ultimo giorno in cui vloggo qua a Carroforte e oggi alle 5 parto In questo momento raga credo che non vado manco al mare perché diciamo devo partire alle 17 Quindi raga non faccio nemmeno il tempo e adesso sono qui che sto passeggiando raga Raga non faccio nemmeno Bene raga in questo momento stiamo mangiando il nostro panino Poi raga girando qua a Carroforte abbiamo conosciuto una ragazza E niente raga ci ho passato un po' di tempo con lei e in questo momento sto mangiando Sono le 14.42 alle 17 abbiamo il traghetto poi vloggo anche in traghetto Raga mi raccomando questo vlog 100 like Raga vi giuro che sono davvero stanco Ho vloggato per giorni e giorni Niente raga credo che questo vlog possa finire qui Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale youtube se ancora non lo avete fatto Commentate, attivate la campanella Niente raga da bastare tutto Beh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.